Alla buon'ora, eh? Sì, sì, sì. Arrivederci, buon viaggio, buona vacanza. La ruccia, eh? La ruccia, non sai quanto gli ha costato Ettore, va a modernizzarla. Eh, Quachille, puoi parcheggiare lì dietro, eh? Bene, amore. Bene arrivati. Grazie. Com'è la password del wifi? Vogliamo presentarci prima. Tutto minuscolo? No, amore, dicevo, questa è Olga. Piacere, cadenacci margherita. La nostra Olga qui è impagabile. Perché lavora gratis. Ma no, vale molto più di quanto prende. Prima. Oh, oh, ringrazio. Ciao. Oggi, giovani malati di telefono, anche tu? Sì, Olga, grazie, ma non giuro qualcosa anch'io dopo, eh? Salve, Aghille Catenacci. Mi chiedevo, la Mercedes è qui nel parcheggio? È assicurata, sì? Perché non proviamo a vivercelo questo giorno senza internet? Approfittiamone per fare qualcosa di sociale, ecco, e non di social. Che posso giocare pure io che sto capace? Aspetta che è freccata e non frecciata. Una tacchetta. Piannino fermo sotto. Ma perché non mi guardi? Ti ho fatto qualcosa? No, che mi ha fatto? Che prima dentro di un massaggio... Capirai, sei così puritano. Però c'hai il tatuaggio uguale a una che su internet vende le borse con le dettate fuori, capito? Sai quante ragazze tatuate ci stanno su Pittogram che vendono le borse? Però io mica ho detto Pittogram. Allora, intanto non sono in vendita, ma sono in promozione. Ma che cosa? Le borse. Le borse, certo, borse. E comunque è un sistema perfetto per guadagnare un sacco di soldi senza che ci metta la faccia. Stai dietro, ci metti le ditte. Stai fermo lì, non ti avvicini. Stai dietro, chi sei? Palmiro! Palmiro! Olga! Chi aiuta me con patate? Io! Oh, me l'hai visto ciocco che mi casca? Almeno uno. O vedi, o vedi l'immortale? Io non sono come te. Mi facevate senza aiuto? Ci arrangiavamo con quello che c'era. Eccolo qua. L'ambulatorio medico turistico via Bezgaier 16. Come ci arrivo? Via Bezgaier. Ecco, vedi, noi siamo qua. No. Se fai la strada asfaltata sono almeno dieci chilometri. Se taglio per il bosco fai prima. Te la senti? Ma grazie. Non è solo tuo figlio, anche mia sorella. Se non volevate che venivo, ma votatete!